Amici di Android Blog, è Samsung Galaxy Tab Pro che sta girando questo video. Proviamo subito un controluce, anche se di luce in questa giornata purtroppo non ce n'è molta. Proviamo a muoverci velocemente verso destra e a camminare come di consueto per vedere la stabilità del video. Andiamo ad avvicinarci al vaso di fiori per provare una macro e poi subito vedere l'adattamento al fuoco. Ecco, adesso facciamo dei rapidi movimenti verso sinistra e verso destra. Tentiamo uno zoom, zoom digitale 4x. Per questo video girato in Full HD da Samsung Galaxy Tab Pro 10.1